ciao buon pomeriggio eccoci qui anche se l'abbiamo già fatta questa cosa del buon pomeriggio buon pomeriggio ciao Giorgio grazie di aver deciso di fare due chiacchiere con me tu sai che sono la quarta diretta che faccio su Twitch e la faccio con te che sei the one l'unico grande grazie no no dai dai sei famosissimo ho guardato un po' i tuoi social in questi giorni per informarmi un po' sei streamer pro player, influencer hai pure scritto un libro hai fatto tutto? faccio un po' di tutto diciamo sono polietrico ammazzati si però quante ore ha la tua giornata per curiosità perché e tante ore perché dormo poco questa è la verità quindi tante ore diciamo vabbè vabbè senti come ti sei appassionato a quello che è diventata una professione per te raccontaci un po' allora diciamo che attualmente la mia professione io ho fatto un pochino di cose nel mondo del gaming che vanno ho lavorato come country manager per un'azienda sempre nel mondo videoludico ho fatto il giocatore professionista cioè lo sono ancora ma sono in pausa attualmente sto facendo praticamente il content creator o l'influencer dipende da uno come lo vuole chiamare vuole vedere questa professione e come mi ci sono avvicinato tutto nasce da quando ero piccolissimo quando ho avuto la mia prima console il mio primo gioco che è stato super mario 64 per la nintendo per il super nintendo mi sono sempre appassionato dal mondo dei videogiochi poi con l'avvento dell'internet mi sono sempre più avvicinato a quello che è il giocare multiplayer quindi contro e assieme ad altri giocatori fino a poi a sfociare nelle competizioni in verità come è diventato un lavoro è stato tutto abbastanza casuale perché io l'ho iniziato a fare più che altro per passione dico pure una piccola cosa divertente io sembro essere un ragazzo super estroverso e tutto il resto ma in verità quando ho iniziato ero super introverso non mettevo nemmeno la cam per farmi vedere perché mi vergognavo eccetera eccetera invece poi attraverso fare video su youtube streaming su twitch parlare con le persone dialogare a condividere qualcosa ho cominciato ad essere sempre più estroverso quindi sono anche cambiato anche io come mi rapporto con le persone e poi tutto è successo praticamente ora sono quasi quattro anni a maggio saranno quattro anni che mi sono licenziato per seguire questa carriera perché fino a prima studiavo poi facevo questo giocavo ai videogiochi streamavo youtube eccetera eccetera e poi ho iniziato a lavorare sono andato in Francia e così via continuiamo sempre a fare questo ma per hobby per divertimento per riempire le mie giornate dato che vivevo lì da solo e ora invece è diventato un vero e proprio lavoro serio diciamo un vero lavoro per me mi sono licenziato e tutto il resto è un lavoro serio a tutti gli effetti ancora non riconosciuto diciamo dalla legislazione però oggettivamente un lavoro non sei certo sì 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 ci sono delle aree grigie diciamo ci sono delle aree grigie che devono essere risolte più che altro per avere sicurezza da ambo le parti tutto qui certo però penso che anche cominciare a parlarne sollevi l'attenzione sul tema tutto quello delle nuove professioni tu che cosa studiavi prima per curiosità io ho iniziato alla sapienza con ingegneria energetica ho fatto un anno alla sapienza e poi mi sono detto che non era la mia strada non mi piaceva com'era il metodo di insegnamento alla sapienza non mi sono trovato bene ingegneria ma credo che è una cosa proprio di ingegneria in generale perché quando si va a fare per esempio analisi ti ritrovi con così tante persone anche ovviamente di altri corsi a fare analisi che non c'è posto e se non arrivi mezz'ora un'ora prima in aula è un casino seguire la lezione quindi per me stava diventando una pazzia pure perché io vivo ad Ostia che è circa un'ora e mezza quasi da fare il pendolare per arrivare alla sapienza quindi è un pochino un casino era un casino per me da lì ho lasciato sono andato a fare praticamente architettura e a tre esami dalla fine ho deciso di lasciare l'università perché a un certo punto ho pensato ho detto voglio fare nella mia vita ciò che mi piace così ogni giorno non sarà mai come andare al lavoro e disperazione di mia madre dei miei parenti amici e così via e non avevo niente all'epoca e ho trovato l'inizio di lavoro a Colonia in Germania dove ho fatto l'analista cioè colui che analizza la prepartita e il post partita della lega professionistica di Call of Duty europea e poi da lì sono fin da lavorare in Francia per questa azienda e poi è sbocciata la carriera da streamer so benissimo che può sembrare una brutta cosa di lasciare l'università tra esami dalla fine però diciamo che nel mio caso mi ha servito un pochino come stimolo nel senso non hai niente te lo devi creare da te e se non ti dai da fare ora hai fallito in tutto quindi non vuol dire che diciamo sia giusto lasciare l'università una cosa di cui ne ho parlato infatti anche nel libro questo ma più che altro mi serviva a me come stimolo di dover impegnarmi al 100% per arrivare al mio obiettivo vabbè poi certo ognuno ha i propri percorsi li segue come riesce però visto che hai parlato del fatto che hai fatto due percorsi universitari e nessuno dei due ti ha soddisfatto soddisfatto non proprio perché architettura è una cosa che io adoro e mi piace tantissimo ingegneria poi energetica è una cosa che mi piace tantissimo perché comunque parlare di energie ecosostenibili rinnovabili è molto interessante specialmente in questo periodo quindi è sommisodamente il mio rapporto che c'è stato con l'insegnamento diciamo con l'università pubblica che sfortunatamente mi ha un pochino demotivato ma non vuol dire che non siano anzi le cose interessanti io sono un super appassionato poi chi mi segue lo sa di architettura design progettazione e così via mi è rimasta ancora la pena avresti dovuto provare giurisprudenza per scoprire i modi di insegnare ancora meno stimolanti e argomenti a volte anche molto diritto e così via questo lo dico con senso di autocritica perché io l'ho frequentata e anche lì c'è un'impostazione un po' legata allo studio per il quale devi sapere sostanzialmente tutto a livello memonico però poi fanno molta poca attenzione a quanto ragioni sugli argomenti a quanto il caso concreto o la risoluzione del case study ti servirebbe poi nella vita reale quella lavorativa per cui qua si apre mi è capitato parecchio in architettura questa cosa perché magari faccio un esempio quando si fa progettazione d'architettura che sono tra diciamo gli esami sia più divertenti ma anche quelli più scoccianti perché ti trovi a dover fare dei progetti che o sono super fantasiosi è tipo la fantarchitettura che ti dovrà fare delle cose che non farei mai nella vita cioè come se arrivi devi fare il Burj Khalifa no? cioè è ovvio è pazzia una cosa del genere è difficile iniziare con una cosa del genere o allo stesso tempo ti trovi dei tanti blocchi dovuti ai professori che vogliono dare la loro impostazione di come fare le cose quindi è una grande problematica però non pensi che nell'orientamento io sono molto fissata da quando sono in questo ministero piccolino manodale secondo me che l'orientamento potrebbe servire ai ragazzi però avere anche delle persone che fanno quello che fai tu andare a spiegare che esistono professioni di questo genere come l'hai sviluppato questo tipo di passione come poi è diventata una professionalità possa anche aiutare a capire che si può perseguire un percorso in maniera differente che si può lavorare in maniera differente insomma quest'anno una banalità quest'anno ci ha insegnato è stato complicato che si può lavorare da remoto sembrava che se collassare tutto invece ha retto poi alla fine il sistema guarda io ho lavorato in smart working esattamente ho iniziato a lavorare in smart working quattro anni fa quando facevo il country manager perché sono andato all'inizio in Francia in Provenza e sono stato lì sei mesi a lavorare e facevo avanti e indietro per l'Italia e a un certo punto quelli che erano diciamo il mio capo ufficio mi fa mi fa Giorgio cioè tu comunque devi sempre tornare tante volte in Italia vuoi che per vedere la tua famiglia vuoi che ci sono attività eventi con cui tu devi andare parlare con i partner seguire delle cose ha detto vai a lavorare in Italia lavoriamo in remoto e via quindi è una cosa che si sta scoprendo ora in Italia principalmente che secondo me è tanto interessante perché apre le porte a tantissimi altri mestieri più che c'è una cosa di cui parlavamo qualche giorno fa mi è capito di parlare di questa cosa che attualmente per i giovani di oggi più che andare a cercarsi un lavoro già creato già consolidato è più semplice crearselo da loro questo lavoro basti vedere quante nuove figure professionali stanno nascendo in qualsiasi campo che sia libero professionista che sia creare non lo so una società eccetera eccetera ce ne sono tantissime e ora che siamo tutti connessi con internet è ancora più semplice lavorare pure diciamo con altre nazioni perché per esempio l'azienda per cui lavoravo io era francese che era una filiale inglese di un'azienda americana per esempio cioè io ti dico io vengo dal ministero precedente funzione pubblica scatta chiaramente l'emergenza pandemica mia considerazione lo Stato non può arretrare proviamo a mettere tutti in lavoro da remoto in quel momento mi videro un po' come una pazza però poi alla fine la pressione il sistema ha retto e abbiamo cominciato a discutere di diritto alla disconnessione che fino a a qualche mese fa sembrava una follia in questo paese invece quanto i ragazzi facciano attenzione non tanto più come dicevi tu al posto di lavoro fisso cioè ad entrare in un posto e rimanere lì per sempre quanto facciano attenzione ad investire su di sé a creare un lavoro intorno alle proprie capacità investire su quello che si chiama il tasso di occupabilità della persona in sostanza tu investi su di te sviluppi le tue soft skills guardi che con quello che hai con quello che sai fare che tipi di lavoro potresti fare forse sarebbe più interessante anche per i ragazzi provare ad aprire un dibattito sul mondo del lavoro spostato in questo senso piuttosto che legato all'orario ma posso raccontarti una cosa che mi sono trovato a parlare in questi anni quando ho iniziato a fare questa carriera ovviamente ho fatto grandi lavori per esempio sono attualmente uno dei volti principali di Adidas per l'Italia e uno diciamo dei mondiali per il gaming sempre di Adidas ora sono ambasciatore di Vodafone che sono sempre stati personaggi comunque del mondo musicale o comunque deep del mondo televisivo e mi è capitato molte volte di scontrarmi con delle critiche che venivano dai più grandi per esempio da persone più grandi di me del fatto che questo lavoro venivano buttati soldi a noi venivano lanciati soldi io mi sono sempre trovato a rispondere a una cosa ma essendo questi qui soldi privati quindi c'è un mercato dietro che è totalmente diverso è un pochino come il calcio perché un calciatore merita di guadagnare milioni di euro rispetto a un'altra tipologia di lavoro e io ho sempre spiegato questa cosa dicendo che il calciatore fa prima di tutto delle cose che magari quella tipologia di skill che richiede quell'altro lavoro può farla praticamente chiunque quindi diventa un settore elitario allo stesso tempo questi sono soldi privati i soldi privati sono soldi che non vengono presi in questo caso da casse pubbliche tasse eccetera eccetera anzi al contrario perché su ogni poi pagamento in questo caso o comunque giro di soldi privato c'è sempre da pagare le tasse sopra che vanno poi in tasse quindi c'è sempre questo giro di soldi che comunque aiuta anche il mercato io come una cosa che parlavo dell'e-sport del mercato diciamo videoludico quello PR core che sarebbe quello degli eventi dei tornei online e offline quindi vuol dire pure negli stati nei palazzetti eccetera eccetera ci sono tutte delle figure professionali che uno ritrova nel mondo dello spettacolo tecnici del suono tecnici delle luci registi sceneggiatori troviamo i cameraman chi lavora per il trucco e così via che sono comunque delle mansioni che tu ritrovi anche in altri posti di lavoro che non sono che non fanno parte del gaming quindi posti non endemici al gaming e quindi la cosa interessante è che si possono sviluppare nuovi posti di lavoro e un nuovo giro di soldi quindi alimentare l'economia grazie a questi nuovi posti di lavoro hai voglia certo bisogna però avere la flessibilità mentale di sapere che ci sono perché poi il tema è solo quello è essere aperti alle novità diciamocelo che in Italia quando si apre un po' il tema del dibattito sul lavoro quasi tutti ti rispondono che il lavoro è la produzione fisica di qualcosa cioè se non produci un mattone o non mi fai qualcosa che fisicamente riesco a vedere è come se il lavoro non ci fosse oppure se non mi sposto non faccio quattro ore di macchina per andare a sedermi su una scrivania a lavorare non sto lavorando esatto è una concezione folle beh io per esempio prendo molto seriamente questo mio lavoro che mi segue da anni lo sa io per esempio credo che veramente sono uno forse di quelli più stacanovisti io stremo più di 240 ore al mese 8 ore al giorno senza giorni di riposo senza pause perché lo vedo proprio come un fatto di proporre un contenuto fisso come avere un vero e proprio posto di lavoro e di essere una presenza sempre fissa nelle giornate di tutti la cosa è che per molti non sembra diciamo una cavolata questa per molti dicono eh mi metto pure io accendo una una webcam no? prendo la console mi metto a giocare non è per niente semplice ci sono poi tanti fattori diciamo tu sei l'azienda di te stesso quando ti rapporti a questo lavoro e ci sono tante difficoltà anche mentali che molti sottovalutano che è il fatto dello stress di approcciarsi a un pubblico su internet pure lei Fabiana quando si trova magari a parlare ah dammi del tuo allora Fabiana siamo quasi coetane quasi io ho 28 anni ci provano a passare l'età quando ti trovi a parlare magari in pubblico di qualcosa poi magari ti ritrovi una sorta di ondata magari di hating e di odio sui social media che viene che si viene a propagare per molte persone è difficilissimo relazionarsi con questa problematica io parlo di questo perché c'è una persona che ho seguito per anni che è una mia ispirazione per quanto riguarda World of Warcraft un videogioco a cui io gioco da ben 16 anni e questa persona tra l'altro si è suicidata per problemi mentali e nell'ultimo periodo una delle cose più brutte che gli sono capitate era proprio la chat che lo prendeva in giro dicendo di suicidarsi fino a che lui non arriva dal punto di suicidarsi quindi non è facile per le persone mantenere uno stato mentale positivo e soprattutto in salute è molto difficile specialmente pure riuscire ad avere successo in questo mondo perché c'è sempre più richiesta magari di un determinato tipologia di contenuto e magari si satura sempre di più questo circolo chiamiamolo così arrivato a questo punto magari uno può investire soldi, tempo, denaro scordandosi di altre cose provandoci sempre di più perché ha questa passione ma magari arriva fino a fallire fino a non vedere risultati ed è uno dei motivi per cui io sconsiglio sempre a chi mi segue sembra tipo il fumatore che dice guarda con la sigaretta in bocca guarda andai fumare sembra tipo sembro così però ci sono tante note negative che se uno non ha la fermezza mentale e non ha magari un piano B se fallisse si ritrova senza niente in un futuro vabbè certo poi secondo me anche visto che l'hai accennato tu un tema importante il fatto che online in particolare per i più piccoli ci siano tutta una serie di rischi dei quali chi non conosce il mondo neanche li prende in considerazione più facile per esempio io adesso ho avuto la delega all'antidroga e tutti hanno cominciato in politica a bombardare su quello quando secondo me il panorama andrebbe aperto alle dipendenze cioè c'è una tematica molto più ampia che può toccare i ragazzi come per esempio anche l'utilizzo improprio di alcuni strumenti che poi ti porta penso alle challenge che spingono i ragazzini al suicidio ma non solo quello ci sono adescamenti su internet ecco truffe ci sono tantissime cose che accadono su internet infatti è una cosa di cui parlo sempre ora sembra una cosa molto dittatoriale però secondo me quando si utilizza internet quando si crea un account almeno per quanto riguarda siti web che lavorano in Italia quindi con domini italiani bisognerebbe collegare al proprio account almeno il proprio codice fiscale o comunque il codice della carta d'identità questo proprio per evitare truffe per evitare problemi perché facciamo conto che ci sia un adescamento o cose del genere con un'indagine si può comunque poi risalire alla persona invece tante volte questi dati vengono vengono persi perché sono profili fittizi fatte con email temporane ci sono un sacco di problematiche pure le truffe per esempio la polizia postale viene bombardata secondo me da truffe che capitano tramite internet tramite link fittizi e così via però poi risalire all'utente è quasi impossibile cioè serve un lavoro di hacking assurdo dietro ed è proprio una cosa che io dico che secondo me servirebbe in alcuni paesi già si fa questa cosa paesi asiatici non Cina parlo di Corea del Sud per esempio in Giappone pure credo che accada questa cosa non Corea del Nord volevo farla io l'ho battuta ma lei in Corea del Sud e questo qui si evitano proprio queste problematiche perché comunque secondo me ci sono un sacco di truffe che capiano a me capitò a mia zia che per esempio rubarono i dati della sua carta di credito per esempio ma conosco tantissime altre persone che sono successe cose simili diciamo che il tema che la potenzialità è grandissima però bisogna riuscire anche a conoscere i limiti i rischi non sono le protezioni serve che internet venga secondo me insegnato anche a scuola perché attualmente i ragazzini allora io utilizzavo internet all'epoca senza proprio limiti era meno limitato di adesso e poteva accedere a tutto però sta sempre alla persona quindi alla propria morale etica come ci si interessa e si approccia a uno strumento così potente perché per quanto ha tanti lati positivi neanche tanti negativi e quindi serve che venga insegnato l'utilizzo comunque secondo me di internet io sono perfettamente d'accordo chiaro che però per insegnarlo serve personale che sia altrettanto in grado di capirne le potenzialità perché è un po' il rischio quando si soprattutto penso al personale magari che ha un'età un po' media un po' avanzata è che si dica evitiamo di insegnarlo perché ci sono dei rischi e quindi sorvoliamo il problema dicendo che proprio non affrontiamo la tematica invece bisognerebbe portare gente come te a spiegare quali sono le nuove professioni quali sono i rischi dove rischiano di andare a infilarsi i ragazzi ma anche a volte i genitori guarda forse addirittura i genitori ma per le truffe proprio i genitori capita spessissimo questa cosa esatto perché poi questa anche sembra una problematica banale ma non lo è proprio per niente per cui insegnare i rischi può aiutare ad evitare che poi ci siano degli effetti negativi oppure che si eviti il discorso a prescindere solo perché ci sono dei rischi questo è un po' un po' tipico quando non si vogliono affrontare i cambiamenti si evita passando subito al tema successivo e visto che ne hai anche parlato io so che tra qualche mese verrà pubblicato un report sulla povertà educativa digitale che è una cosa che mi ha stupito è nella fascia dell'infanzia mi ha stupito perché io ingenuamente ho pensato vabbè ma i ragazzini oggi sono nativi digitali tutti sapranno utilizzare benissimo tutti i mezzi che ci sono a disposizione e invece l'associazione che sta lavorando questo report mi ha fatto presente che i ragazzini si sanno usare bene i social sanno usare bene determinati tipi di strumenti non sanno utilizzare tutto ciò che potrebbe servire diciamo la parte anche utile positiva per il mondo del lavoro che riguarda tutti gli strumenti informatici banalmente faticano a fare gli allegati oppure a compilare un file in Excel Excel qui torniamo al discorso pure per me è stata una difficoltà Excel quando ho iniziato a lavorare come country manager no no lo so benissimo perché comunque bisogna cioè secondo me per esempio utilizzare la suite quella di Microsoft di Excel Word eccetera eccetera è importantissimo per qualsiasi lavoro di ufficio perché viene poi richiesto una cosa del genere quello sicuramente poi ovviamente ci sono altre skill che vanno oltre a seconda poi della tipologia di posto di lavoro è ovvio non si sta parlando della suite di Adobe Photoshop After Effects Lightroom eccetera eccetera però sì utilizzare Excel Word per diciamo per essere proficuo nel mondo lavorativo aiuta pure cioè le persone non se ne rendono conto ma poter fillare in questo caso riempire scusa riempire in questo caso un file Excel avendo già tutto pronto dà una velocità incredibile sul lavoro quindi sono pure meno ore magari di lavoro perché quando si lavora in smart working uno deve pensare che cambia totalmente il modo di lavorare pure l'approccio all'orario cioè non hai più una giornata di 6-7 ore d'ufficio comincia a diventare più modulabile in base al carico di lavoro no ma poi si innesta tutto il discorso adesso qua è la mia passione da ex ministro dell'APA che viene fuori il concetto di straordinario come fai a legarlo a un tipo di lavoro che è collegato in automatico a degli obiettivi che ti stabilisci cioè scambia un po' tutto anche lì dà di orario delle 8 ore e si basa molto di più sulla flessibilità che ha ogni singola persona ci sono persone che magari negli orari serali riescono a produrre molto di più perché hanno un tipo di mente che funziona meglio in quell'orario altri che dalle 5 del mattino alle 8 sono dei draghi quindi anche questo si innesta un po' in un discorso del mondo del lavoro che andrebbe di molto rinfrescato non solo rispetto alle professioni ma anche alle regole che conosciamo di orario di scrivania di beggiatura ecco tutto tutto un altro tutto un altro e si più che altro è pure per i ritmi di lavoro che cambiano totalmente con lo smart working certo certo ma poi se pensi al fatto che si riescono anche a vivere le città in maniera differente tu mi dici che vieni da Ostia è vero perché l'avevo letto tra l'altro e c'è un grandissimo spostamento di persone tra Ostia e il centro di Roma ma tu immaginate se lì si facesse un polo come mi ero immaginata di smart working in quel luogo si eviterebbe le persone si spostassero tutte per venire a lavorare in centro in ufficio la mattina è pura follia dalle 6 del mattino fino alle 9 prendere la litorale la lidocentro cioè scusami la via del mare eccetera eccetera sia in macchina che sia bus che sia il trenino è una cosa fuori è un delirio non so quante volte io dovevo uscire di casa a mezz'ora 45 minuti prima perché se magari c'era un incidente se magari c'era un treno che si fermava per un x motivo e così via arrivavo con dei ritardi paurosi a lezione e poi avevamo magari alcune lezioni su presenza quindi ancora peggio diventava la situazione quindi sicuramente perché comunque Roma è gigantesca cioè Roma è una città fuori di testa è praticamente una nazione a sé stampo e quindi sicuramente è una delle problematiche principali che capitano incidenti sulla via del mare rutino letto dalla chat quello che capita una volta ogni due giorni no ma poi diciamoci se se entrasse a regime una modalità di lavoro di questo tipo ti permetterebbe anche di vivere in maniera differente gli spazi io vengo da un territorio il basso Piemonte di comuni minuscoli ci sono comuni qua di 86 abitanti in area interna bellissime dal punto di vista paesaggistico scomodissimo se lavori all'ufficio dell'IMS di Torino per esempio quindi è chiaro che se ti permetto di avere più flessibilità lavorativa di questo genere permetto anche ai ragazzi che forse sono un po' più attenti all'ambiente di andare a vivere aree di quel tipo io poi forse sono appassionata di luoghi isolati perché Roma mi ha traumatizzata è per tutti così chi non è nato a Roma rimane traumatizzato se ci vive se ci viene in vacanza è bellissima se ci viene in vacanza è bellissima se ci viene a lavorare è terribile sempre così lavorare e studiare è terribile esatto esatto è stato abbastanza scioccante e allora sto guardando un po' delle domande così intanto vediamo se riesco un po' interagire io sono meno smart di te su questo fronte quindi vedo allora vediamo no il mio messaggio non è si salvi chi può chi è che scrive queste cose ma no non è questo anzi allora vediamo un attimo eh lo so questo è un tema che mi pongono come si può prendere un mutuo se non ho un posto fisso è chiaro che c'è un sistema questo è un sistema io l'ho preso recentemente ed è tostissimo è tostissimo ho appena comprato casa abbastanza stabile pur essendo flessibile è chiaro diciamo che io per allora per prendere il mutuo all'inizio ti racconto questo piccolo questo escurso è divertente all'inizio volevamo prendere casa io e la mia ragazza a Milano perché volevo proseguire la mia carriera spostandomi a Milano per essere più vicino sia la mia agenzia con cui lavoro sia le persone con cui collaboro su a Milano e volevamo prendere casa in affitto all'inizio avevo solo la partita IVA e veramente le persone ci attaccavano il telefono in faccia o si inventavano campavano scuse come vogliamo solo studenti o coppie sposate quindi ci è capitato tantissime volte anche se io proponevo di pagare tutta magari l'anno subito al primo pagamento eccetera eccetera e ho aperto poi la società e quando ho aperto la società ho detto va bene allora posso prendere la mia casa in affitto voglio aprirmi voglio comprarmi casa però ho detto al posto di spendermi tutti i soldi per la casa prendo una parte di mutuo e poi cerco di sbrigarmela nel meno tempo possibile quando mi sono trovato a prendere il mutuo mi sono trovato ad avere delle difficoltà perché ho dovuto far firmare degli NDA quindi non disclosure agreement dei contratti di riservatezza alla banca perché io ho dovuto mostrare i miei contratti privati della mia strusciità che avevo con i brand con cui lavoravo proprio per far vedere che comunque avevo le possibilità economiche per il mutuo però ora comunque con la dichiarazione di redditi della società mi ha aiutato molto di più adesso dato che l'ho aperta da poco tempo ma precedentemente era pura follia questo è pure un fattore che qui in Italia come detto questo lavoro non viene riconosciuto ma penso che sia un problema per chiunque fa libero professionista credo che non non c'è diciamo non è molta apertura che però non è proprio considerato come lavoro stabile quindi c'è una difficoltà dalle banche che sono private c'è poco sostegno all'emancipazione diciamola così oggettivamente se un ragazzo giovane qualsiasi tipo di lavoro che fai se non sei magari due statali è difficile riuscire a trovare senza il supporto dei genitori la possibilità di essere supportati questo è abbastanza io poi volevo farlo senza garante mia madre per esempio lavora alla banca d'Italia da tempi in memory ormai e quindi mia madre lei mi proponeva di farmi da garante eccetera eccetera però io volevo evitare questa cosa perché non si sa mai poi lei è un posto di lavoro pubblico tutto il resto ho detto evitiamo questa cosa però comunque ci sono sempre problematiche ora sono riuscito senza garante quindi tutto fatto da me però dopo un anno praticamente ci sono riuscito e questa sia una problematica che dovrebbe essere affrontata il fatto è che non può essere una cosa prettamente secondo me statale comunque nazionale perché è una cosa che deriva dalle banche che sono private quindi nemmeno ci si può scagliare uno come al solito subito si parte scagliandosi contro il governo eccetera eccetera riguardante questa cosa il fatto è che essendo le banche private come dico sempre casa loro le regole le fanno loro e non ci si può fare niente l'unica cosa è riuscire ad avere un lavoro come libro professionista e portare dei dati tramite contratti case history eccetera eccetera rapport di budget e così via grazie a quelli si riesce ad arrivare comunque al modo certo ascolta rispetto alle domande visto che me le fanno mi dicono è giusto bello parlare di smart working ma senza una connessione che lo permetta in tutti i lati d'Italia è difficile beh certo questa è la premessa è abbastanza oggettivo in questo anno i nodi credo che lo sappiamo tutti sono venuti al pettine tutti di colpo anche il fatto che la banda larga non fosse stata terminata in tutte le aree d'Italia e che quindi ci siamo trovati ci siamo trovati in una difficoltà maggiore però ha permesso anche di accelerare questo tipo di dinamiche si sono fatte le procedure di semplificazione per tutto quello che riguardava le autorizzazioni che comune per comune si doveva dare alla striscia di scavo dalla microtrincea per far passare la banda larga delle cose veramente incredibili che veramente se le persone le sapessero che di comunello in comunello si faceva l'autorizzazione per le parti di private che ora stanno collaborando proprio con gli enti pubblici per fare queste tracce e tutto il resto quindi ci si sta avviando la nostra problematica è che noi siamo un paese che ha dei reperti archeologici fuori di testa quindi ogni volta che si scava c'è un casino eclatante e si bloccano tutti i lavori ogni volta c'è una pelletta da alterare esatto quindi questa è la nostra problematica principale poi pure il fatto che noi abbiamo un paese che ha veramente dei biomi assurdi cioè noi passiamo veramente ad avere la montagna alla pianura al deserto al ghiacciai a tutto quindi ci sono pure le difficoltà dovute al nostro territorio per collegare tutto infatti ora si stanno sviluppando sempre più tecnologie tramite connessione satellitare magari e così via però è tutto tempo al tempo parla uno ragazzi che ha avuto la fibra con tre anni di posticipo perché è stato scoperto un deposito di bombe della seconda guerra mondiale qui vicino e quindi avevano interrotto tutto per portare la fibra da Roma sono cose che capitano l'unica cosa è che non si può portare pazienza lo capisco specialmente dopo tutta questa cosa della pandemia però ci sono un sacco di altri modi per avere la connessione esistono ormai le connessioni a banda larga tramite saponette internet quindi non esiste solamente il diciamo la connessione via cavo ci sono un sacco di escamotage per ora che si possono utilizzare quindi diciamo questo è assolutamente vero sottoscrivo tutto quello che dici per comunque per terminare la banda larga ci siamo seduti al tavolo abbiamo fatto un cronoprogramma delle scansioni temporali per le quali entro il 2022 va finita e conclusa resta il fatto che non è che possiamo interromperci rispetto alle prospettive di evoluzione del mondo del lavoro perché attendiamo che ci sia la banda larga perché altrimenti se per ogni discorso si attende che si faccia il passaggio conclusivo di quello che lo precede a volte certi cambiamenti non li otterremo mai infatti qualcuno per esempio mi ha anche chiesto quanti giovani possono effettivamente fare il tuo percorso un po' come dire che tu sei un'eccellenza un caso quindi io ho intervistato proprio te che sei la punta di diamante dell'eccellenza e non tutti lo possono fare lo capisco però è anche vero che parliamo troppo spesso di grandi eccellenze su dei fronti e delle professionalità che sono già riconosciute e altre incredibili che abbiamo di fronte neanche le conosciamo e neanche ne vogliamo parlare ecco perché sono venuta su questo canale ed ecco perché ho voluto parlare con voi perché se neanche il ministro delle politiche lo sa è difficile poi riuscire a fare sistema su questo no? Sì ma poi una cosa è che ci sono sempre diverse tipologie io per quanti mi pensino all'eccellenza io ho pure un fatto che cerco di portare un contenuto e una tipologia di lavoro che è più internazionale che italiano pure nel fatto dei lavori che prendo o come faccio quei lavori è totalmente diverso il mio approccio però questo non vuol dire che nel mio caso non si possono seguire le mie orme in quello che faccio è ovvio poi dipende sempre da uno come vuole impostare questo lavoro perché c'è una completa libertà in come si può fare sta però a te a cosa vuoi arrivare a cosa vuoi puntare io per esempio ho la mia idea che è quella di mostrare il gaming in Italia l'hardcore gaming non solo il gaming come passatempo o come sottofondo ma come qualcosa di più come può essere in alcuni casi io per esempio sto giocando attualmente a The Last of Us 2 con la mia ragazza che considero attualmente un pezzo d'arte secondo me comparabile veramente a un film blockbuster o a un romanzo sempre blockbuster e questo secondo me dipende sempre che tipo di approccio uno vuole avere con il videogioco ci sono persone che basano proprio la loro carriera su questa tipologia di contenuto quindi io che sono un hardcore gamer che piace giocare ad alti livelli competere o comunque andare proprio a snocciolare le meccaniche del videogioco fino a conoscere dalla perfezione faccio anche cose totalmente diverse ogni tanto sia per cambiare sia per piacere personale quindi dipende sempre uno come si vuole approcciare quello che vuole fare con questo strumento con internet perché in verità uno potrebbe avere una serie di podcast come quello che noi stiamo facendo adesso Fabiana e avere dei podcast di un'ora due ore al giorno dove intrattiene le persone e non bisogna avere però le idee soprattutto in come fare questi podcast che secondo me è molto difficile sapersi rinnovare avere i contatti con gli ospiti saper mantenere l'interesse delle persone perché noi potremmo stare a parlare politica per un anno intero avere successo poi al secondo anno magari la gente dice c'è rotto le palle con sta politica basta succede è decisamente più probabile la seconda succede quindi sta anche nella flessibilità delle persone di saper toccare diversi argomenti e saperli trattare vabbè certo la flessibilità mentale che direi che è un po' il segreto del futuro questo però è un nostro problema proprio come cultura italiana noi siamo una cultura che molto difficilmente si approccia alle novità e al cambiamento cioè noi siamo molto statici anzi abbiamo paura del cambiamento come vedi anche le mode da noi arrivano con qualche mese o anno di posticipo rispetto agli altri paesi che magari sono molto più aperti faccio un esempio una cosa stupida quella dei colori per esempio i colori quelli neutri crema kaki color nocciola così ora stanno arrivando in Italia quando sono colori che per esempio vengono utilizzati da anni già in altre nazioni io dico perché sono un grande fan della moda del mondo proprio fashion e così via quindi mi interessa di queste cose io adoro guarda tantissimo sono super informato su queste cose sono già tre anni che comunque il mondo si sta approcciando a queste tipologie di colorazioni mentre noi siamo ancora fermi e ora ci stiamo approcciando e ora grazie poi a Gucci e altre mesonne italiane stiamo riscoprendo il vintage utilizzando proprio quelle colorazioni quindi stanno utilizzando questo sotterfugio per utilizzare queste colorazioni sono delle cose che accadono e secondo me una cosa che noi dovremmo cominciare a fare come popolo italiano è essere più aperti alle novità al cambiamento senza avere paura di quello che accade perché alla fine è divertente cambiare richiede un sacco di difficoltà quello è vero e anche di sforzo per approcciarsi a questi cambiamenti o imparare cose nuove però allo stesso tempo porta un sacco di benefici specialmente crea movimenta un po' tutto dai si mescolano le carte si cambiano le cose escono fuori magari nuovi posti di lavoro nuovi interessi eccetera eccetera no ma io sono perfettamente d'accordo però guarda mi sono sentita dire a volte che è meglio trincerarsi dietro ciò che conosciamo l'inefficienza di quello che conosciamo piuttosto che provare a fare qualcosa di nuovo che è un ragionamento un po' folle su questo fronte bisognerebbe un po' avere il coraggio di provare a pensare in maniera diversa e lanciarsi di più forse su questo effettivamente siamo un po' indietro sui colori non sono d'accordo con te non amo quei tipi di colori sto tentando di lanciare il viola è la moda è la moda è la moda tra l'altro parlando di viola la mia ultima felpa infatti che ho comprata è proprio di questo oh grande il viola da dono sto tentando di lanciarlo come modo ufficiale è un colore che porta un poiella secondo me è fighissimo bellissimo senti qualcuno mi chiede anche come si parla di nuove professionalità società e imprese ma come si può partire da zero per crearle e beh allora ci sono anche dei finanziamenti da parte dello Stato diciamo che magari sono pochi e sono anche poco conosciuti secondo me anche questo è un tema non tanto piccolo di poca capacità di comunicazione tra la politica e chi sta fuori dai palazzi però ci sono interi fondi che vengono destinati alle innovazioni cioè ce n'è uno sul contributo a fondo perduto per esempio per l'intrattenimento digitale che proprio per chi vuole provare a programmare dei videogame sono pochi per carità 4 milioni il primo stanziamento che è stato fatto 50% a fondo perduto e in questo momento è in registrazione in corte dei conti nella fase finale per cui tra qui e poco sarà usufruibile è chiaro che però se questa cosa è comunicata poco effettivamente poco lo sapranno anche i ragazzi da fuori chi vuole provare ad avvicinarsi interessarsi se deve andare sito per sito da ogni ministero diventa anche perché poi non è friendly i siti ministeriali lo so bene ma secondo me non è che non si fa abbastanza pubblicità di queste cose è che secondo me si usano attualmente dei canali che i giovani di oggi i giovani di oggi parlo pure di gente che ha 30 anni 35 anni quasi 40 non utilizza più cioè magari si utilizzano i classici canali come magari solamente quelli televisivi in cui si parla di questo come può essere il telegiornale nazionale addirittura regionale eccetera eccetera che però attualmente vengono visti da una fascia di utenza che non ne usufruisce o a cui non interessa questo argomento e non va ad utilizzare questi capitali cioè secondo me una cosa un'idea molto carina sarebbe il fatto di rimodernare in questo caso non solo quelli che sono i siti web ma anche le pagine social perché se noi parliamo per esempio di social media in Italia quali sono i social media più utilizzati Facebook Instagram in Italia ma Facebook non è popolato in questo caso dalle persone giovani dalle nuove generazioni anzi in verità già dagli secondo me chi fa parte degli anni 80 o più già non lo utilizza più Facebook si è spostato solo su Instagram secondo me se in questo caso lo Stato comunque in generale i varienti utilizzassero la pubblicità in questo caso attraverso i canali social il fatto ovviamente nel giusto modo non la classica foto con scritte basta secondo me potrebbe funzionare molto di più a livello di far conoscere questi argomenti e queste iniziative alle persone perché molte volte tutti dicono eh ma il governo non ci aiuta e magari ci sono questi fondi come hai detto te Fabiana che possono essere utilizzati di cui però le persone non sanno cioè bisogna secondo me svecchiare permettetemi il modo di fare pubblicità di di vedere di comunicare proprio cioè perché io sono il primo che si è trovato in delle problematiche enormi per capire come pagare le tasse per passare da partita IVA a società e tutto il resto è stata pura follia perché poi lasciamo perdere i problemi col sito che ho avuto e così via serve un rinnovo e questo rinnovo chi lo può fare? I giovani di oggi che hanno quelle soft skill di cui abbiamo parlato che hanno magari appreso in maniera autonoma o attraverso corsi o percorsi di studio no no concordo qualcuno mi chiede se sono d'accordo con l'idea di portare gli sports nelle scuole come esercizio di team building e crescita personale secondo me potrebbe essere un'idea molto molto positiva anche perché eh a lato del fatto che questo diciamolo sempre perché poi anche le parole sono importanti che tutta la classe docente secondo me eh ha necessità di avere un booster in formazione su tutto quello che riguarda l'ambito digitale eh e anche come dicevi tu prima all'inizio anche la modalità di insegnamento cioè si può insegnare in maniera differente su questo però chiaro serve una formazione eh spinta e mirata credo che effettivamente anche gli sports permettano di sviluppare delle capacità che sono incredibili e che nel mondo del lavoro effettivamente servirebbero tantissimo per cui io lo vedrei eh io lo vedrei con un esperimento decisamente positivo decisamente va bene ti ho rubato tantissimo tempo non ti preoccupare a proposito di docenti io sto leggendo in questo periodo un manga a me piace tantissimo leggere ora in questo periodo sto leggendo veramente tantissimi manga che si chiama GTO ed è Grantichero Nizuka e parla della storia 22enne che si trova ad approcciarsi a un posto diciamo in questa scuola prestigiosa per quanto ovviamente sia un fumetto comico ci sono tante riflessioni realistiche che per quando è stato fatto questo manga si potrebbe rappegare attualmente ora che è proprio il rapporto per esempio degli studenti con il professore o comunque degli studenti alla scuola visto come costrizione secondo me io sto arrivando verso la fine tra l'altro adesso del manga ci sono un sacco di cose da cui si potrebbero prendere spunto perché io parlo da un ragazzo che ha fatto lo scientifico sbagliando tra l'altro pure indirizzo perché ho fatto un indirizzo sperimentale di scienze naturali però allo stesso tempo per quanto io poi a parte ingegneria non abbia utilizzato quelle skill che ho imparato attraverso le materie molti professori mi hanno insegnato ne ho parlato anche del libro dei valori comunque etici o morali o comunque anche di approcciarsi al mondo del lavoro o dello studio che mi hanno poi aiutato per quando ho fatto architettura certo l'ho detto anche io tra l'altro però molto bello ma poi dietro non me l'aspettavo sì sì dietro a quell'ironia c'è veramente tanto insegnamento decisamente qualcuno chiede se sei un metallaro ma direi che chiede a te sai più che metallaro io ascolto di tutto ne abbiamo parlato all'inizio di questa cosa perché quando ero più piccolo e giocavo a World of Warcraft era proprio l'apice che in Italia iniziava a arrivare il metal il rock proprio che l'ascoltavano cioè l'ascoltavamo fin da quando eravamo piccoli quindi lì ho cominciato ad ascoltarlo poi i miei gusti musicali non è che sono cambiati ho cominciato a sentire tutti i generi infatti la mia playlist di Spotify c'è tutto cioè se passa dai Audi a come vi ho detto i Motored poi Linkin Park Black Eyed Peas c'è un po' di tutto Queen proprio tutto a caso tutto mescolato così sì in base al mood poi uno va dicendo questa no e vado avanti magari diciamo ascolto di tutto però sì anche quello sono stato con la cresta quando erano le mete ah fantastico sì il momento punk a bestia diciamo sì ce l'ho avuto ce l'ho avuto ce l'abbiamo avuto tutti il momento della vita ok va bene l'ultimo l'ultimo spunto che ti chiedo si sta discutendo tanto in questo momento in politica di come coinvolgere maggiormente i giovani è proprio una domanda un po' di rito ma te la devo fare i giovani chiedono di essere maggiormente coinvolti la politica dice di coinvolgerli però poi raramente viene sui canali tipo questo a parlare con i ragazzi che cosa che cosa ti aspetti e che cosa ti aspetteresti da una classe politica rispetto al fatto che dobbiamo andare ad investire anche tantissime risorse a far ripartire un paese e che abbiamo la possibilità di fare uno scatto grandissimo oggi si discute c'è un tema ancora in grande discussione di cui noi parliamo in realtà da dico come forza politica da tempo ma che oggi è ritornato alla ribalta che è quello ad esempio del voto ai sedicenni ma forse perché il filone tema politica ai giovani e come avvicinare i giovani alla politica è diventato un po' un leitmotiv in questo momento e allora si è ritirato fuori come far partecipare i giovani si è abbassando l'età media si è provando a consultarli e tu che cosa ne pensi che cosa ti aspetti allora sicuramente è una cosa che bisognerebbe fare perché io sono una di quelle persone che non si sente rappresentato in politica cioè molte volte brutto da dire mi dispiace dirlo ma mi ritrovo a dover dare il mio voto a quello che secondo me è il meno peggio a non sentirmi quindi rappresentato da una parte capisco questa cosa e capisco pure che magari dall'altra parte da chi fa politica c'è un'intenzione di voglio sapere cosa volete come posso approcciarvi a voi però allo stesso tempo si torna davanti una barriera di persone che praticamente mettono un muro di giovani che mettono un muro davanti alla politica questa è una questione molto difficile e spinosa secondo me perché coinvolgere i giovani in politica vuol dire interessarli anche che è la cosa principale perché chi è più giovane se non è interessato come sappiamo magari non si adopera nemmeno come ho detto prima l'utilizzo dei social media fatto nel giusto modo sta dando i suoi frutti perché sappiamo di molti politici che attraverso l'utilizzo dei social media riescono a guadagnare tanti consensi o comunque avere una gran voce proprio grazie al social media più che alla loro voce che magari hanno all'interno del Parlamento o dove vogliamo sicuramente c'è bisogno che chi lavora in politica chi fa parte del governo o chi vuole creare delle strategie di governo si interfacci con internet perché poi avendo la possibilità di aprire la sua voce a tutti comunque al giudizio pubblico può aiutare anche a capire com'è comunque l'interesse tramite le critiche che molte volte nel 99% dei casi credo nel contesto politico siano distruttive poi poche critiche costruttive e tante critiche distruttive però è come se fossero dei case history dei mega sondaggi che si possono utilizzare è difficile attualmente perché so benissimo quanti giovani non sono più interessati alla politica il fatto che ormai l'età media di chi vota sia veramente alta o forse si stia alzando non lo so questi dati precisi secondo me la comunicazione importante è quella con i giovani che ormai non guardano quasi più la tv quindi attraverso i social media magari si può accolpire in qualche modo e catturare l'interesse dei più giovani senti ma io mi sono fatta venire questa idea la condivido qua con te così mi dai la tua opinione ho inaugurato un progetto un open doors ne abbiamo parlato all'inizio ho messo insieme tutti i CEO delle più grandi aziende nazionali e internazionali per provare a presentare su una piattaforma quindi con una serie di webinar gratuiti c'è il patrocino della Rai insieme sia i grandi manager che i funzionari o comunque chi lavora all'interno di queste aziende per raccontare le loro esperienze che cosa hanno studiato che percorsi di vita hanno fatto per illustrare le professionalità è chiaro questo tipo di attività si fa in quella maniera c'è il patrocino della Rai per cui lo danno in diretta streaming su Rai Cultura ma dall'altro lato ho pensato forse sarebbe interessante provarlo a portare anche all'interno di un canale come questo quindi provare ad avere qui non dico proprio un CEO ma anche magari un dirigente di una di queste aziende che trova a raccontarsi che dice un po' come abbiamo fatto io e te oggi qual è stata la sua esperienza di vita che cosa ha studiato perché non so io penso che effettivamente manchi un po' la comunicazione una comunicazione che sia un po' più giovane e fresca manchi tanto l'orientamento e poi ci si trovi a un certo punto della vita ad aver magari studiato qualcosa che non era neanche in linea con i tuoi desideri capita spesso questa cosa capita molto spesso capita molto spesso ci si ritrova perché non si hanno dei modelli di riferimento quindi magari provare a fare anche un orientamento in maniera diversa qui potrebbe essere potrebbe essere interessante mi hanno tra l'altro ho anche contattato le aziende che producono videogame per provarmi a proporre questo tipo di attività magari su questo è anche un po' più interessante noi abbiamo tante eccellenze italiane che lavorano in software house estere capita molte volte secondo me questa è una bella idea ma per esempio credo che poche persone sapevano che c'erano questi webinar su recultura quindi è pure un fattore che credo magari chiedendola alla chat quante persone sapevano di questa cosa prima che lo dicessi quindi sicuramente serve forse più visibilità magari perché è quello che le persone non sanno proprio sono all'oscuro di questo ma che il vero paradosso è che c'è a volte una grandissima visibilità da un lato magari è la televisione o su facebook e c'è il completo buio su tutti questi canali che invece sono frequenti ormai sono due mondi sono due mondi divisi che non si toccano e non interagiscono tra di loro e proprio il fatto di non interagire crea queste problematiche perché quando una cosa viene fatta lì poi non ha nessun riflesso dall'altra parte dove magari potrebbe trovare un interessamento da parte della community certo certo assolutamente il nome comunque di questo progetto è Open Doors lo dico qua è una banalità però è solo porta aperte apriamo il mondo dei CEO e delle aziende in maniera che i ragazzi sappiano perché se uno sa che si cercano determinati tipi di professioni parlo del tornitore che è il più banale ma sa che ci sono determinati tipi di professionalità allora interessa anche provare a muoversi in questo settore poi oggi abbiamo parlato del tuo incredibile lavoro e del fatto che come dicevamo prima meriterebbe anche un riconoscimento un inquadramento effettivo però è chiaro che ci sono anche tutta un'altra serie di lavori secondo me vanno considerati entrambi presentati entrambi anche per riuscire ad avvicinare i ragazzi a un mondo che sia abbastanza concreto il problema è che attualmente secondo me i ragazzi sminuiscono quelli che sono i vari lavori questo perché uno per esempio parliamo del che ne so del gioielliere di chi produce gioielli l'orefice uno pensa che si ritrova a lavorare lì nell'officina fare gioielli su commissione o per essere messi in veterina e fine la sta anche pure secondo me alla tua inventiva di saper comunicare e saperti raccontare perché per esempio da poco a me è comparso su Instagram tra l'altro uno spot di una gioielleria tedesca che ha fatto una maschera per questo rapper incredibile fatta tutta di carati d'oro eccetera eccetera ma questo perché è stata fatta per tutto è una gioielleria non famosissima tra l'altro nuova di ragazzi perché si sono saputi comunicare si sono saputi vendere e sono riusciti ad arrivare a fare questi lavori e ora stanno avendo un boom di richieste di lavori customizzati e personalizzati quindi sta anche uno proprio al proprio lavoro se tu vuoi andare per fare quel lavoro sederti e fare quello fare le tue ore poi uscire tornartene a casa è una cosa se tu vuoi andare a fare quel lavoro perché pretendi di fare qualcosa di più ti devi anche saperlo inventare devi saperti vendere che è la cosa più difficile perché ci vuole un sacco più è tutto di autostima secondo me pure e specialmente di skill che vanno oltre quella del lavoro che stai facendo vabbè certo non è facile poi tu dicevi all'inizio che sei timido qua siete tutti timidi ragazzi poi sui social è andata alla grande quindi tanto timidi forse mi hanno cambiato mi hanno cambiato diciamo io continuo a essere abbastanza timida e introversa nonostante faccia questa attività che teoricamente ti porta sotto i riflettori però questo fatico fatico ancora un po' vedrò di provare anch'io a fare più dirette aiuta molto parlare con le persone in chat discutere crea questa cosa diciamo fa parlare ci credo ci credo va bene io ti ringrazio sei stato disponibilissimo gentilissimo è stato un piacere anche per me spero che riusciremo a incrociarci visto che io sono sempre a Roma e tu sei ad Ostia siamo a un tiro di schioppo come si dire tanto poi andrò a vivere a Roma io proprio in centro ho preso casa quindi fine anno sarò lì perfetto quando riapriremo i locali visto quando è stato un piacere anche per me grazie a te a tutti quelli che ci hanno seguito un saluto alla chat ciao